Un grave incidente stradale ha scosso il sud degli Stati Uniti, precisamente nella città di New Orleans. Un'improvvisa e densa nebbia, definita come supernebbia, ha causato un disastroso incidente coinvolgendo ben 158 veicoli lungo l'autostrada Interstate 55, un'importante arteria che attraversa la Louisiana. Questa tragedia ha lasciato un tragico bilancio, con sette persone decedute e 25 feriti. La visibilità è stata drasticamente ridotta a causa di un incendio che si è sviluppato in una palude nelle vicinanze, causando condizioni estremamente pericolose lungo la strada. In alcune zone il fumo e la nebbia erano così fitti che persino la visione a breve distanza risultava praticamente impossibile.